Loro sono una squadra forte, sono una squadra forte fisicamente, sono forte nei singoli e l'hanno potenziata questa settimana con giocatori provenienti addirittura dal campionato di Serie B. Hanno un allenatore che conosce bene il campionato ed è uno dei migliori della categoria. Poi hanno un giocatore che noi l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di avere qua, che in questo momento forse è il valore aggiunto di questa squadra. E' una squadra da prendere con le pinze, penso che anche loro non verranno qua convinti di poter fare un solo boccone dall'avversario. Sarà una bella partita, una partita maschera, una partita fisica e noi siamo pronti a lottare su tutti i palloni, centimetro per centimetro.